Amici di Milan.soccer, eccoci ben svegliati, buongiorno per chi ha il fuso orario italiano o vicino all'Italia e buonanotte e buon pomeriggio a tutti quelli che si trovano in giro per il mondo. Allora, una puntata un po' più lunga, quindi rimaniamo seduti e cerchiamo di capire questa scelta illogica perché a tutti gli effetti il Milan non si fida di se stesso. Avete visto la copertina? Immagino di sì e secondo me sbaglia anche. Prima di cominciare come sempre vi ricordo per chi ama questi colori di iscrivervi al canale qui sotto, fatelo numerosi, è gratuito, mettete un bel pollicione a questo video per dire che vi piace e poi guardate un po' più in basso, link in descrizione, il romanzo rossonero, il romanzo del Milan, insomma curiosità, miti, leggende, un bellissimo regalo, Amazon ve lo porta a casa, quindi possiamo iniziare. Il Milan ha dunque ufficializzato il rinnovo di contratto del portiere classe 2004 Lapo Nava, figlio di Stefano Nava, è lieto dunque il Milan di annunciare il prolungamento di questo contratto fino al 30 giugno 2027. Un Lapo che ha mosso i primi passi in rosso-nero già nel 2017, diventando protagonista tra i pali delle formazioni giovanili e rossonere per entrare poi nella rosa della prima squadra, quando c'è stato quel disastro generale ed è anche andato in panchina contro la Juventus. Papà è molto emozionato. Perché iniziamo con Lapo Nava? Perché ho fatto una carrellata attenta di quelli che sono i giovani che il Milan ha nel proprio progetto sportivo. Se non c'è un progetto sportivo lo creiamo noi, va bene così? Allora dopo che Luca Romero è diventato un nuovo giocatore dell'Almeria, passando nel club spagnolo a titolo temporaneo, il Milan potrebbe far partire, questo leggo dai giornali principali, anche Davide Bartesaghi, che però nel frattempo è stato convocato dall'Under-19 italiana. Terzino rosso-nero, classe 2005, è stato il primissimo tra i giocatori giovani rossoneri a esordire in prima squadra in questa stagione, ma l'esplosione di Simic, di cui parleremo tra breve, e i Jimenez lo hanno fatto un po' scivolare nelle gerarchie. Continuo con l'elencazione dei migliori giovani, perché voglio arrivare al punto del perché scrivo scelta illogica, il Milan non si fida di se stesso. Vado da Clinton, sia la difensore centrale della primavera, inserito nella lista UEFA e allenatosi con i giocatori della prima squadra, una scelta oculata da parte di Paolo Maldini. Spero che questo per lui non sia un neo. Victor Eletu è nato nel 2005, 18 anni, è di nazionalità nigeriana, centrocampista, mediano, piede sinistro, che a noi serve molto ed è, diciamo così, un altro giocatore molto importante della primavera. Zeroli, anche lui, convocato da Corradi, nazionale under 19, ci sono tantissimi nazionali tra 19, under 19 e under 16. A proposito di nazionale, Juan Carlos Simic ha già disputato 13 partite nella Serbia under 19 realizzando ben due reti. Due presenze in under 19 spagnola per Alex Jimenez, per cui tra l'altro proseguono le trattative sul riscatto dal Real Madrid. Per quanto riguarda gli italiani, sei presenze di Bartesaghi, sempre in under 19, cinque per Zeroli e sei per Camarda in under 17. Contrariamente alla nazionale maggiore, i giovani del Milan attraggono e non poco i club azzurri. Nasti, due club di Serie A si sono fatte avanti per Marco Nasti, l'attaccante del Milan 2003, al momento si trova in prestito in Serie B. Lascio fuori Colombo da questi ragionamenti di cui abbiamo già detto abbastanza in passato. Oggi al Bari, ma è anche richiesto da squadre di massima serie. Per lui, finora, 4 gol, 19 partite, il Milan ne detiene il controriscatto. Cuenca, grandissima magia l'altro giorno nella partita purtroppo persa in primavera dal Milan contro l'Atalanta, ma andate a cercare Magia di Cuenca su YouTube, troverete veramente una grande magia. E poi ancora vado a Camarda, Italia under 17, sei rossoneri fra i convocati del CT Favo, c'è anche Camarda in vista dei prossimi due impegni, uno stasera e l'altro dopo domani, 25 gennaio con la Spagna di Hernan Perez. Il CT dell'Italia, Massimo Favo, ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati, fra i quali rientrano ben sei del vivaio del Milan. Questi rispettivamente sono Alessandro Longoni, non so, sarà parente, non lo so, classe 2005, i difensori Niras Pereira, Mattia Cappelletti, 2007, e poi i tre talenti della primavera che sono Sala, Liberati e Camarda. Chiudo con questa lista per Chakra Traore, lo conosciamo, ha già segnato con il Milan nazionale, dicevo, prima squadra, ha fatto una gaffa terrificante, non so se l'avete sentita, sull'onda dell'eccitazione del gol, ha postato e contropostato dei video sui propri social, e uno purtroppo non se ne è accorto, c'era scritto sempre con voi, ma il pelato e il suo staff devono stare lontano dal mio Milan, il pelato e il suo staff sono Pioli e la sua squadra di tecnici, Chakra se ne è accorto un po' tardi, insomma gliel'hanno fatto togliere sostanzialmente, vabbè il ragazzo non c'entra niente. Ma perché dico che il Milan fa scelte illogiche e non si fida di se stesso? Perché in tutto questo, anziché fare un po' come la Juventus, diciamocelo francamente, in questo momento li ha chiamati quando servivano perché non c'era nessun altro, l'alternativa ero io, e invece adesso tornano un po' dispersi a destra e a manca, e andiamo a cercare Nzianzu e Adarabio, e ho fatto un'analisi su questi giocatori, perché poi magari mi sfuggono tante cose, Tanguy Nzianzu avrebbero chiesto al Siviglia, quelli del Milan, la formula del prestito con diritto di riscatto, ed è un giocatore che è ben voluto da Jeffrey Moncada, il dirigente rossonero, è in ottimi rapporti con Vadim Vaisley, ex vicepresidente del Monaco e uno degli agenti del centrale francese, quindi stiamo cercando il centrale, il rapporto tra i due dura dei tempi monegaschi, e questo potrebbe favorire l'operazione. Nzianzu, un metro e 91, 21 anni, può giocare sia sul centrodestra che sul centrosinistra, eccetera, eccetera, eccetera. Punto interrogativo, mi chiedo ma se abbiamo dei giovani così forti, perché andiamo a prendere, o prendiamo, o cacciamo soldi e prendiamo gente di esperienza, che ha un nome, che ha un pedigree, che ha un curriculum, oppure perché dobbiamo andare a fare scommesse per squadre e per giocatori che poi sono costretti ad andarsene, come nel caso, beh, Luca Romero non era tanto una scommessa perché la Lazio non aveva fatto niente. E poi c'è questa notizia, ormai in giro, di Adarabio, qual è la situazione? Obiettivo difesa del Milan, a contatti con il Fulham, difensore in scadenza giugno, Moncadà ha parlato con il fratello agente per capire se imbastire o meno l'operazione già in questa sessione di mercato, pagando un indennizzo, oppure si aspetterà l'estate prossima per prenderla a zero. Quindi non c'è nemmeno l'elemento della, come dire, necessità last minute. L'identikit io ho provato a farlo, ho veramente una scheda molto lunga, non voglio fare per un video troppo lungo, un classe 97, 26 anni, già un po' più di esperienza, difensore centrale, forte fisicamente, del Fulham dal 2020, quattro stagioni, 119 gettoni, sua valutazione di mercato è di 12 milioni, ha iniziato la stagione da infortunato, ma da dicembre è stato titolare in 4-2-3-1. La difesa e il suo habitat più raramente ha giocato a tre, lo scorso anno ha chiuso la Premier con 25 presenze, quasi tutte da titolare, l'anno prima ancora, mentre il Milan vinceva lo scudetto, lui col Fulham vinceva la Champions, capirà, la Serie B dell'Inghilterra, giocando praticamente sempre. Il club del Fulham lo aveva pagato 1,65 milioni dal Manchester City. Ora, al di là di tutto questo, io mi domando e appunto dico, ma noi dobbiamo prendere gente di esperienza e gente forte, o appunto, come dicevo prima, con il pedigree, altrimenti facciamo crescere questi giovani che mi sembrano già, come dire, sul punto di poter esplodere. A voi l'ardua sentenza. Il Milan sicuramente non si fida di se stesso e dimostra sempre di più che il calciomercato lo fa così, un po' ad improvvisazione. Io da questo punto di vista posso dirlo, sono molto deluso e sinceramente non è quello che merita il Milan, non è quello che ci meritiamo noi. Mi domando e chiudo perché questi nomi, quando ci sono davvero altri obiettivi e altre necessità. L'altra sera l'abbiamo visto, insomma ci sono squadre che continuano il loro percorso di crescita e vincono, che fanno entrare dalla panchina giocatori che sarebbero titolari in ogni dove e che sono anche in nazionale. È tutto per adesso, ci sentiamo più tardi, ciao!